Il decreto di Maio è un decreto che sta provocando gravi danni alle imprese, ai lavoratori, alle famiglie. Le imprese hanno ricominciato a licenziare e quindi ha irrigidito e aumentato i costi. Le famiglie che hanno in casa una badante o una collaboratrice domestica stanno pagando più tasse e i lavoratori semplicemente in questa maniera hanno perso il lavoro, non è che sono stati stabilizzati. Quindi sul decreto di Maio, il decreto 87, noi diamo un giudizio molto negativo, ma ripeto non perché ci interessi... Tutto il PD dice lei? No, tutto il PD dà un giudizio molto negativo. Poi alcuni del PD dicono però su un paio di questioni forse dobbiamo ripensare e il ripensamento ci sta. Ma fa notizia un emendamento su 700 che abbiamo presentato che viene usato strumentalmente da Di Maio per dire il PD è contro le persone. Quell'emendamento era giustificato dentro un pacchetto di emendamenti che rafforzava le tutele per coloro che venivano licenziati. Quindi c'è un uso molto strumentale delle divisioni del PD. Poi voi siete abituati, adesso mi perdoni, a lavorare sulle nostre divisioni. Speriamo che vi occupiate anche delle divisioni degli altri perché alla fine fanno meno notizia ma... Non lo dica il PD dà un'emendamento.